Eccoci qua, eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, siamo qui per il consueto punto che facciamo ogni sera sull'andamento dell'epidemia covid nella nostra regione, sulle misure che anche oggi per mattina e pomeriggio abbiamo lavorato per costruire in accordo spero con il governo, anzi spero che questa volta il governo ci ascolti più di quanto non ha fatto l'ultima volta per la verità. Abbiamo lavorato anche questa mattina con i ministri Boccia e Speranza, ci siamo riuniti come governatori oggi pomeriggio, insomma stiamo lavorando, stasera vi aggiorno ovviamente da casa perché è sabato sera e abbiamo interrotto qualche ora, abbiamo chiuso i nostri uffici e lasciato qualche ora libera anche i nostri collaboratori, ma stanno lavorando tutti, ho appena finito il mio consueto giro di telefonate con i nostri medici in prima linea che mi hanno aggiornato sulla situazione di tutti gli ospedali, adesso vi aggiornerò ovviamente anche voi. Oggi sono stati fatti 5173 tamponi molecolari di tipo tradizionale a cui vanno aggiunti ovviamente i tamponi di tipo antigenico, cioè quelli che ormai avete imparato anche voi a conoscere come noi, i test rapidi che facciamo negli screening un po' da ovunque, dai laboratori mobili, abbiamo aumentato gli screening sul personale dell'RSA perché ovviamente sono quelle che dobbiamo tenere più protette di tutti. I contagiati sono 464, quindi come vedete continuano a crescere, ma forse in modo un po' più lineare, un po' meno affiammata di quello che hanno subito altre regioni, segno che il lavoro di tracciamento, e poi vi dirò qualcosa dei nostri uffici di prevenzione, sta cercando di contenere il virus e lo sta anche riuscendo a fare in qualche modo. Allora, i casi sono 41 nell'Imperiese, 76 nell'Asla 2 di Savona, sapete che vi abbiamo parlato ieri di un cluster in un'RSA che ha prodotto un numero elevato di contagiati e ovviamente anche oggi i contatti dei contatti producono questo strascico, 306 nella città metropolitana di Genova, 3 nel Tiguglio sull'As4 e 38 su Spezia, dove ancora una volta si conferma essere sotto controllo quel cluster che invece ci aveva impegnato molto molto nelle settimane all'inizio del mese di settembre. Bene, negli ospedali salgono di 23 persone i ricoverati, la maggior parte di loro non sono gravi, come mi ha confermato poco fa il dottor Grattarola, che come sapete è il capo del Dipartimento di Emergenza e di Urgenza della regione Liguria, crescono ovviamente soprattutto a Genova, una decina a San Martino e altri 7-8 negli altri ospedali, Villascassi e Galliera, 6 crescono ad Imperia, 8 crescono a Savona, mentre le terapie intensive sono oggi 38. Sulle terapie intensive vorrei dare una parola definitiva, le terapie intensive a disposizione della Liguria sono più di 250, dove decidessimo di passare alla fase di assoluta emergenza, quindi come vedete sono poco più del 15-18% le terapie intensive occupate in questo momento. abbiamo un ampissimo spazio, così come tutti i nostri ospedali stanno aumentando i posti letto, passando a quella che nello schema ministeriale di crescita è la cosiddetta fase 3, con alcune modifiche, perché come abbiamo più volte rilevato anche in queste dirette, i pazienti che arrivano nei nostri ospedali sono per lo più pazienti con meno sintomi di una volta, che non hanno bisogno di essere intubati, quindi non hanno bisogno di terapie intensive, anzi, in qualche modo anche la capacità clinica, cioè l'utilizzo del caschetto, il C-PAP al posto delle terapie intensive e della sedazione col tubo, sta dando buoni risultati anche a livello clinico, così mi dicono ovviamente gli esperti medici, cosa che io non sono. A Spezia la buona notizia è che calano ancora invece di 6 gli ospedalizzati, questo vuol dire quello che vi ho detto poco fa, ovvero che in quella provincia evidentemente il gruppo di pazienti che era stato ricoverato durante il periodo del cluster di Piazza Brin, del quartiere Umbertino, per capirci, sta via via dimettendo dagli ospedali, viene mandato a casa e quindi è segno che i pazienti che arrivano sono meno di quelli che se ne vanno e che la situazione in questo caso era più grave qualche settimana fa. Purtroppo anche oggi abbiamo una vittima, una vittima rispetto ovviamente alle condolianze della famiglia, a tutti i parenti, a tutti coloro che hanno perso un proprio caro, un proprio amico durante questo triste periodo del Covid, però vi rendete conto anche voi dai numeri che diamo quotidianamente quando 1, quando 3, insomma sono ben diversi dai numeri che erano molte decine dei tristi bollettini del mese di marzo e di aprile, anche questo in qualche modo ci conferma l'idea che siamo di fronte a un fenomeno che va controllato, che va tenuto sotto controllo, che non va sottovalutato nel modo più assoluto, ma evidentemente un po' diverso per dimensioni, gravità e drammaticità di quello che abbiamo già vissuto tutti insieme. Allora, poi, quello che nei nostri ospedali l'ho detto, c'è molto molto posto, c'è sì sì, lavora, certi pronto soccorso sono in alcuni momenti sotto pressione, come è normale, nelle prossime ore entrerà in azione anche quel sistema di tamponi e di tracciamento che abbiamo sottoscritto con i medici di famiglia che si faranno carico di un pezzo dei pazienti che possono trascorrere la malattia a casa e in coordinamento con la clinica universitaria di malattie infettive del professor Bassetti che stabilirà i protocolli di cura, potranno curare anche a casa, anche con medicine normalmente da ospedale che si usano per il covid, il cortisone e quant'altro, possono curare i pazienti meno gravi a casa, questo dovrebbe in qualche modo alleggerire anche in questo caso sia la qualità della vita di tanti pazienti, che non c'è bisogno di stazioni in un letto d'ospedale, sia il peso che c'è sui nostri sanitari e sui nostri pronti soccorsi. L'altra cosa, molti dicono che tante persone che hanno avuto un positivo, che vengono contattate dalla ASL, poi aspettano molto prima di essere ricontattati per i tamponi, in alcuni casi è vero, tenete conto che il volume delle persone che i nostri uffici di prevenzione sono chiamati a rintracciare, a tracciare, a isolare, perché positivi sono veramente tantissimi. Se pensate così, tanto per farci qualche esempio tra di noi, 464 oggi, ponete caso che ognuno di questi produca anche solo, ma ne produce di più, ma mettiamo anche solo 10 contatti stretti, sono più di 4640 persone da contattare e 4.000 erano ieri e 4.000 erano il giorno avanti. Per tante persone, per il rafforzamento che abbiamo fatto degli uffici che continuiamo a rafforzare, è un lavoro improbo, quindi cercate di essere pazienti con tante persone che veramente lavorano giorno e notte per cercare di fare al meglio il loro lavoro. Allora, veniamo a cosa ci siamo detti fino ad oggi con il governo. Tanto ci siamo molto lamentati perché nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello entrato in vigore mercoledì scorso, per intenderci quello che limita gli orari dei bar e dei ristoranti, le regioni avevano fatto alcune osservazioni, riteniamo di molto buon senso, che sono state accolte pari a zero e questo ovviamente ha molto, come dire, indispettito, lasciato perplessi tutti i governatori, destra, sinistra, nord, sud, senza differenze di visione. Anche oggi abbiamo lavorato in modo concreto e unitario in due lunghissime riunioni, una ha cominciato a stamani alle 9, è finita intorno a mezzogiorno e una oggi pomeriggio che è durato oltre due ore per dare delle proposte comuni al governo con cui torneremo a confrontarci domani mattina. Cosa abbiamo detto al governo? Abbiamo detto al governo che dobbiamo innanzitutto preservare moltissimo la scuola e chi lavora. Chi lavora ha già subito molti danni e quindi non può permettersi ulteriori danni da questa crisi. Per la scuola noi abbiamo proposto, lo avevamo già fatto, siamo tornati a riproporla e speriamo domani di confrontarci anche con il Ministro Azzolina. Abbiamo proposto che la didattica a distanza possa essere attivata, ascoltate bene, solamente per il biennio degli istituti superiori, ovvero per gli ultimi due anni degli istituti superiori, a rotazione. A rotazione vuol dire che magari si fa una settimana a scuola e una settimana a casa, oppure due giorni a scuola e due giorni a casa. Quei ragazzi più grandi negli ultimi due anni degli istituti medi superiori vogliono dire ragazzi diciamo 17-18, totaluni anche 19 anni a seconda di quando sono ovviamente nati e quindi persone autosufficienti che non implicano il fatto che un genitore debba non andare al lavoro per prendersi cura di loro, persone che possono tranquillamente seguire da casa le lezioni attraverso computer, smartphone, tablet e sono anche capaci molto spesso, anzi direi nella totalità dei casi, di usarli visto che molto spesso li usano per la ludica distanza, diciamo così, la playstation, insomma tutti quelli che se avete un figlio o un nipote sapete benissimo cosa fanno. Abbiamo chiesto di tutelare bar e ristoranti e quindi di non procedere a un'ulteriore stretta, quei baristi, quei locali, quei ristoranti che seguono le regole e mi raccomando in questo momento delicato a tutti gli amici esercenti, a chi ha un bar, chi ha un ristorante, chi ha una tavola calda, seguite le regole con grande scrupolo, la distanza, le mascherine, il lavaggio delle mani, attenzione per il vostro personale, insomma state molto molto attenti, state molto 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 attenti a quello che fate e noi cercheremo in qualche modo di preservare la vostra attività. Quindi è possibile che vi sia, qualcuno nel governo lo chiede, un anticipo della chiusura ancora dei bar, noi riteniamo che possa andare bene così, il divieto di esporto di alcol e di assembramento davanti ai locali però deve essere rigorosamente rispettato. Stanno ragionando gli esperti anche su alcune ulteriori limitazioni alle manifestazioni pubbliche, fiere, ovviamente i mercati rionali per il momento cercheremo di preservarli, fiere però manifestazioni, congressi, limitarli al massimo, ridurli in numero oppure addirittura in alcune zone vietarli, così come alcuni sport da contatto fatti a livello amatoriale, l'utilizzo degli spogliatoi è qualche cosa che l'università è già in didattica a distanza, perché non vi informate prima di scrivere con tre punti interrogativi per favore? Solo il primo anno dell'università frequenta in alcuni casi l'università, l'università di Genova era già stabilita dal rettore che come sapete è scaduto e ce ne sarà uno nuovo da novembre, la didattica a distanza per quasi la totalità dei corsi, quindi per favore prima di scrivere, leggere e informarsi su quello che vi interessa. Lo sport di contatto invece in alcuni casi potrebbe essere ancora limitato. L'altra cosa che abbiamo chiesto con grande vigore è che aumentino gli uomini per i controlli. Nel decreto legge approvato dal governo due settimane orsono e anche nel provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ultimo di mercoledì scorso non ci sono uomini in più per i controlli a Genova, ad esempio, ma anche nel resto della Liguria abbiamo solamente utilizzato un po' per i controlli militari dell'operazione strade sicure, che non è il loro mestiere, lo possono fare, ma sono pochi. Quindi si tratta di qualche pugno di uomini, due o tre pattuglie in più in tutta la regione Liguria, mi sembra francamente uno sforzo da poco. Abbiamo detto che assumano e mandino più poliziotti, che si cambino le regole, si possano usare anche poliziotti oggi destinati, poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, ad altri incarichi oppure molto banalmente ce ne prendiamo carico, diano ai comuni i soldi per assumere nuovi vigili, ausiliari, persone da dedicare esclusivamente nelle zone, ad esempio della Movida, nel centro storico di Genova, nel centro di Spezia, sulle darsene di Savona, dove si sono verificati casi di assembramento e ci sono locali, per dare una mano agli amici dei locali e agli esercenti per poter tenere ordinato fuori le persone e le persone ben ordinate. Questo bastano un po' di soldi per farlo, basterebbe chiedessero le risorse ai comuni che lo facciano perché mettere regole che poi le persone non rispettano francamente non è il caso. Le palestre non sono sport di contatto e quindi saranno aperte per il momento, io me lo auguro, le regioni questo hanno chiesto che restino ovviamente aperte. L'altra cosa che abbiamo chiesto, che vi riguarda, ve lo dico, ma insomma non riguarda la vita di tutte le persone è di semplificare le regole d'assunzione per consentire ad esempio agli specializzanti in medicina, ad esempio a chi fa i corsi di medicina interna, tutte queste persone che oggi, stando a delle regole un po' ottuse del nostro paese, non possono essere utilizzati, non possono essere assunti, ecco, che costoro possano essere assunti immediatamente ed utilizzati nei reparti covid degli ospedali oppure a sostegno dei drive-thru dove si vanno a fare i tamponi o appunto a rafforzare quegli uffici di prevenzione dove è molto difficile trovare personale capace e che sappia fare quel mestiere che è un mestiere complesso. Questa è stata la giornata di oggi, quindi io torno a dirvi che bisogna essere prudenti, stasera è sabato sera, uscite a cena, fate quello che ritenete più opportuno, vedete gli amici, cercate magari di non fare quelle tavolate da 30 persone che se c'è uno o me mezzo positivo, poi finisce che tutti e 30 finiscono contagiati e danno da lavorare ai nostri ospedali e ai nostri uffici di prevenzione, vedetevi con gli amici cari, uscite a mangiare una pizza, fatelo con prudenza, fatelo a distanza, fatelo indossando la mascherina tutte le volte che si può e che non potete garantire la distanza, insomma se ci aiutiamo e se siamo tutti un po' prudenti e un po' attenti io credo che supereremo anche questo momento e speriamo di superarlo senza soverchi guai per tutti noi, quindi dipende anche molto dal comportamento, insomma poi lo Stato, le regioni possono mettere i divieti, possono mettere le regole, possono fare tutti i controlli che vogliamo, ma insomma non possiamo fare uno Stato di polizia, dobbiamo essere noi, il poliziotto di noi stessi, controllare le nostre abitudini, controllare i nostri familiari, magari cercare di evitare i luoghi troppo affollati, andare nel ristorante che garantisce le distanze, cerchiamo insomma di essere attenti, prudenti, di pretendere da tutti gli amici ristoratori e baristi che si facciano le cose per bene, a modo e noi stessi comportiamoci per bene e a modo perché questo protegge noi e protegge in generale la nostra società, quindi lo dico soprattutto ai più giovani, avete il diritto di uscire, avete il diritto a divertirvi, avete il diritto di uscire con il proprio ragazzo e la propria ragazza, a fare tutto quello che è giusto che la vostra età si faccia, fatelo con attenzione e prudenza perché poi magari tornate a casa e vi ritrovate contagiati e fate dei danni anche alla vostra famiglia dove magari c'è qualcuno di più fragile di voi a casa con voi. Buon sabato sera a tutti quanti voi, ci sentiamo domani, ovviamente ne continuiamo a monitorare, a lavorare, domani ci rivedremo col governo, è possibile che già domani arrivino nuovi provvedimenti, spero che siano come quelli che vi ho appena descritto, che sono ragionevoli, togliamo qualcosa di superfluo, conteniamo l'epidemia e lavoriamo tutti insieme per passare questo momento nella consapevolezza che l'unica cosa che non dobbiamo fare è farci prendere dal panico e della paura da sempre cattive consigliere per chi governa ma anche per chi vive la propria vita. Prudenza sì, panico, paura, reazioni spropositate, mai no perché sono contrarie a quello che serve in questo momento. Buon sabato sera a tutti voi.